Siamo a San Vittore, a 5 km dal centro di Cesena. Il ristorante è nato negli anni Sessanta, siamo famosi per la pasta fatta in casa col mattarello. Il tipo di pasta sono i canoli e le nostre tagliatelle, assieme ai capelletti in brodo, che facciamo un brodo come si faceva una volta, con il cappone, con il manzo e un brodo di carne. Poi gli arrosti perché abbiamo un forno a legna dove comunque tutte le mattine cuciniamo sia gli arrosti, il coniglio, la farone, il galletto e cuciniamo il pane e la spianata tutti i giorni nel forno a legna. E quindi i nostri arrosti sono diversi perché è cotto nel forno a legna, ha un altro sapore tutto. Partendo anche dalla pizza perché il forno è acceso proprio perché alla sera si fanno le pizze e alla mattina col caldo che rimane si fanno sia gli arrosti che il pane.